Scoprire i tesori artistici custoditi nelle sale e negli uffici delle banche. 21esima edizione per invito a palazzo, iniziativa promossa dall'ABI in collaborazione con Acri. La Banca Popolare di Sondrio ha aperto al pubblico la sede centrale e la biblioteca Luigi Credano, dove si poteva ammirare anche una preziosa edizione della Divina Commedia. Oltre al corposo fondo Vilfredo Pareto, ricco di quasi 9.000 lettere dell'illustre economista e sociologo. Non è voluto mancare il prefetto Roberto Bolognesi a illustrare le opere d'arte e mina Bartesaghi. Celebriamo la 21esima giornata per aprire al pubblico i palazzi, palazzi che custodiscono dipinti di vario genere. Oggi noi abbiamo la possibilità di esporre e far conoscere al pubblico la variegata nostra pinacoteca, che va dal 700 fino ai giorni nostri. Un'idea apprezzabile è quella dell'ABI che ogni anno rinnova questo invito. Facevo una riflessione. La Galleria degli Uffizi recentemente ha promosso questa iniziativa per far uscire dagli uffizi dipinti importanti, collocarli sul territorio per renderli più visibili. Ritengo che sia un momento importante. Siamo molto lieti di aderire tutti gli anni a questa iniziativa dell'ABI che è estremamente significativa sul piano nazionale. Per noi è anche l'occasione evidentemente per confermare la nostra vocazione alla promozione culturale, a beneficio dei territori nei quali siamo insediati e particolarmente come è ovvio il nostro territorio d'origine. La banca dà servizi finanziari, presta il danaro, raccoglie il danaro, ma è anche un attore importante dal punto di vista della promozione, anche della crescita culturale e civile del territorio. L'arte che davvero è un punto di forza del nostro paese. Sì, l'arte è un punto di forza ed è importante conoscerla. Patrimonio importante da valorizzare. Molto, molto da valorizzare ed è molto bello, io sono molto entusiasta anche dell'operazione che è stata fatta nell'ambito dell'operazione nazionale dell'Associazione Bancaria Italiana. Giornata speciale per la signora Marietta Brughetti di Lovero, per lei 101 primavere. Hai 101 anni, vero mamma? Sì, compiuti. Cosa le è piaciuta di questa visita? Eh, i quadri.